Musica Salve a tutti amici sono Mr.Delleric e benvenuti qui con me a un nuovo gameplay di Rome 2 Total War Allora ragazzi abbiamo finalmente conquistato abbiamo tutta quanta la magna grecia Per cui ok adesso siamo un attimino in negativo ancora non possiamo fare degli editti Però possiamo adesso per esempio costruire tutto quello che dobbiamo costruire Sostituire e cambiare i vari edifici nella nuova città Che è la città di Marsala per l'appunto tra l'altro Per cui li dobbiamo tutti convertire ci vorranno un paio di turni per fare tutto Questo comporterà allora intanto la presenza militare qui l'abbiamo già parecchia Abbiamo un meno 24 purtroppo ora come ora Abbiamo anche un esercito ribelle che molto presto andremo a sconfiggere A sconfiggere nel frattanto potremmo usare per esempio la nostra spia Beh intanto volevo vedere Scusa scusa è giusto così Che 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 di cosa sei? Puttana miseria ci sono gli elefanti qui Cazzo di cane come minchia facciamo Allora Assassinio Porca vacca Allora Spada nascosta proviamo ad assassinarlo Sperando che però ho idea che quegli elefanti rimarranno lì Ho idea che quegli elefanti rimarranno lì Sabottaggio militare Già è diverso Infligge danni di poco conto a tutte le unità nell'esercito prescelto Oppure con l'assassinio e la spada nascosta uccide il personaggio prescelto In uno scontro diretto Proviamo Nemico ferito Puttanaccia la miseriaccia Ciò però non toglie il fatto Si Ok Ok Potremmo Potremmo riuscirci Il problema è ovviamente che adesso non ci arriviamo Ma ci arriveremo il prossimo turno Potremmo riuscirci Visto che adesso non ci sono gli elefanti Perché sono veramente tosti adesso qua gli elefanti La spia qua Che praticamente non ha stelle Cioè proprio Ma com'è possibile? Vabbè Non importa La potremmo iniziare a spostare In mare E iniziare a vedere un pochino la situazione vicino a Cartagine Qui cosa abbiamo? Bah sono anche messi malissimo Qui si fottono facilmente Andiamo vicino a Cartagine E vediamo come è messa Allora ci sono delle unità che sono fottibilissime Perché non è che abbiano chissà quanta roba Quindi È facilmente fottibile Allora questa nave Purtroppo Bisognerà rimandarla indietro Almeno fino a qua No dove caspita sarà il maesi Fino qua in fondo Per avere navi Almeno le navi che dico io Va bene lo facciamo In un paio di turni ci arriva In un paio di turni è fattibile Qui che cacchio abbiamo? Ah il sostituto di burro Ma mi hanno tolto Mi hanno tolto le stelle Non le vedo più le stelle accanto ai personaggi Vabbè Stranamente non si vedono più le stelle Qui non è possibile fare i ditti Non capisco il bene il perché Perché probabilmente Vedete anche qua i ditti non se ne possono fare Qui invece sì Anche questa cosa non capisco Allora qui abbiamo detto che c'è Un meno 10% del costo di ruolamento Più della conversione latina Adesso è ora di cambiarlo In più 5 a pressione fiscale Guadagniamo un qualcosina di più Il prossimo turno Sarà così Meno male che di soldi Ne abbiamo messi parecchi da parte E ne stiamo guadagnando anche tanti Onestamente io qua non me la sento Di diminuire molto La presenza militare Perché comunque qui a nord C'è di tutto e di più D'accordo Per il momento siamo anche in rapporti decenti Con queste fazioni Però Abbassare la guardia Con tutti quei confini aperti Non è che mi vada molto Allora Passiamo il turno ragazzi Ah Ovviamente qui dovremmo aver Risolto anche il problema Sì Controllavo giusto perché Abbiamo risolto Meno 4 all'ordine pubblico Come siamo messi all'ordine pubblico Di questa regione qui Un più 9 Non è proprio tanto Non è proprio tanto Questo Più 12 all'ordine pubblico Per turno E questo potrebbe essere Una buona idea Allora Facciamo così Questo ci impiega 5 turni Questo quanto cavolo ci impiega 5 turni lo stesso Lo facciamo Che così Riequilibriamo le cose Con l'uno e con l'altro Qua c'è un meno 4 all'ordine pubblico Però Con questo L'alziamo al più 12 E togliamo un po' di cibo Che invece qua dovremmo recuperare Esatto Per cui Ci sta Ok abbiamo pagato un'eresia Non mi importa Tanto queste due città Non è che mi servano particolarmente Se non per procurarmi cibo E eventuali Truppe Perché ho visto che da qua Adesso ne potremo Con la scuola gradatoria Fare dei gladiatori Eccetera Non so come siano In combattimento Ma Anche qui tra l'altro C'è una scuola gladiatoria Vorrei anche vedere una cosa Io Ci sono Dei templi Ovviamente non credo Che aumentano Il cibo La produzione di cibo Credo di no Più 3 all'ordine pubblico No Purtroppo no Perché Questo qua che io adesso Ho più 2 all'ordine pubblico Siamo anche Delle attività culturali E ne ho solo una Di attività culturali Niente Per il momento Allora dovremo Aspettare Avrei fatto meglio Forse a fare Le attività commerciali Ma non importa Roma ragazzi Non è che abbia Un grandissimo Sviluppo Quanto vedo Perché Siamo veramente indietro Qui eh Vabbè Non importa Non importa Fra un po' Avremo molto più cibo Comunque Passiamo il turno E vediamo cosa succede No È vero Chi cacchio è Che ha bisogno Di dover Aumentare Ah ecco qua Quello di questa flotta Ok 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 Un altro aiutante Possiamo scegliere Tu sei un ammiraglio Per cui serve qualcosa Per il mare Allora L'armatura Non è male Più una l'autorità Più una l'autorità Più 5 la portata di unità Da tiro Morale di tutte le unità Anche la morale di tutte le unità Non è malissimo Però Ce ne sono tante Che sono uguali Praticamente No Unità di fanteria Morale alle unità Più una l'autorità Più una l'autorità Quando è il capo della flotta Con l'ammiraglio Vabbè No No Più una l'austuzia Ricchezza Ma no Alla portata di tiro Tutte le unità Potrebbe essere anche utile A dire il vero Offensiva Offensiva corpo a corpo Ma quale cavalleria Quale cavalleria Per guarire dalle ferite Allora ragazzi Allora ragazzi Visto che si tratta Di unità Che in In mare Generalmente Si Alcuni Andranno sicuramente In corpo a corpo Ma altri Diciamo Combattono soprattutto A distanza Sparando Potremmo fare Alla portata di tiro Ma siccome Non mi dispiacerebbe Nemmeno Il morale Più 5 All'armatura Di tutte le unità Anche questo Non sarebbe male Allora O il bardo O il fabbro Allora Per il momento Facciamo questo In più Vada per l'autorità Ok Ok Passiamo il turno Allora Questi vogliono Un'alleanza difensiva Un'alleanza difensiva Che non sarebbe Neanche male Anche se mi domandano Dei soldi Ma Allora Diciamo che io potrei Accettare Se mi togli questo Perfetto Facciamo un'alleanza Di tipo difensivo Ah sono anche in guerra Con la Libia Erano alleati Dei cartaginesi Vabbè Cazzi loro Perfetto Ci siamo No Ce ne sono altri Che vogliono Un'alleanza difensiva Ma questi vogliono Una quantità di denaro Impossibile E infatti Ti dirò Di no Ok Eccoci sul nuovo turno Allora Praticamente Cosa vuol dire Alleanza difensiva Vuol dire Semplicemente una cosa Che se Verremo Attaccati Da qualcuno La nazione Con cui abbiamo Alleanza difensiva Il regno La nazione Quello che è Con cui abbiamo L'alleanza difensiva Scenderà anche lei In campo Per difenderci Le alleanze militari Invece Sia che vogliamo Attaccare Sia che vogliamo Difendere Equivale Praticamente A entrare in guerra Esattamente Con le stesse Nazioni Della nostra Alleata Diciamo Ecco Allora L'obiettivo di guerra Disponibile Grazie a recenti Avvenimenti Ora potrai Suggerire un obiettivo Ai tuoi alleati Va bene Gli aiutanti Aumentano Va bene D'accordo Ma ma quanti Tratto acquisito Patriota Oh va bene La nostra spia È diventata anche Bello Mi piace Bellissimo Ottimo 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 Davvero Allora Cisalpina Raccolta delle tasse Ditto emanato Perfetto Quindi infatti Vedete che siamo Ulteriormente aumentati Ogni turno Come entrate Rapporto costruzione Abbiamo costruito Di tutto e di più Adesso guardate Quanto cibo abbiamo Adesso non dovremo Preoccuparci particolarmente In Magna Grecia La gente di questa provincia È ispirata E la cosa mi sta Benissimo Anche perché qua Siamo messi veramente Un po' da culo Fintanto che Il prossimo turno Non riusciremo a costruire Questi edifici E non riusciremo Anche a migliorarli Allora Vediamo di fare Intanto dei danni Di poco conto A queste unità Ma giusto perché Mi piace l'idea Abbiamo un 73% Sabotaggio militare Riuscito Molto bene Fornitura di veleno Vaffanculo Ci sono ancora Sti cazzo di elefanti Merda Avrei dovuto fare il re Vabbè Non importa Ho le macchine ad assedio Gli sfondiamo gli elefanti Con le macchine ad assedio Facciamo sta cazzo di battaglia Mua Cazzo Vaffanculo Vai vai Controllo Grandi eserci Sì 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 Combattiamo ragazzi E ci vediamo Sul campo di battaglia Siamo sul campo di battaglia Ragazzi Vedo già un campo Piuttosto In salita Allora Iniziamo lo schieramento Siamo un po' Messi da culo Porca puttana Miseria Guarda che roba Gli elefanti Allora Io spero Vivamente Ma veramente Vivamente Che Le mie armi Da assedio Qui servano A qualche cosa Noi adesso Mamma Ok Le metterò In una posizione In modo tale Che Riescano A fare qualcosa Tu che hai un raggio Della madonna No vediamo un attimo Di posizionarle con Con criterio Tu sei anche fissa Porca miseria Porco cane Sei Inutilissima Probabilmente Anche Allora Visto che tu sei fissa Io cerco di metterti qua Ok Spostiamo Tutte le altre Un attimo Ragazzi Scusatemi Ma qua Io con gli elefanti Mi cago un attimo In braghe Per cui Cercherò di Mettere queste due Qua davanti Che tanto sono fisse Non si possono muovere Non credo che potrò muovere Particolarmente Nemmeno queste altre Però O quantomeno Non molto Ok Qui facciamo Così Questo facciamo Così Ok Li uniamo Insieme Ora Adesso Io non Vorrei Tanto Allora Vediamo un po' Questi Li girerei Ancora In questo Modo In modo tale Che quando passano Di qua Li posso Bersagliare Per bene E lo stesso Vale per queste Fare così Ok In modo tale Che se passano Di qua Qui noi Cosa faremo Cercheremo Di attirare I nemici Affinché scendano Da questa parte Per cui Io metterò Tutte le unità Più veloci Qua in basso Allora La mia Tecnica Sarà Tutte le unità Di fanteria Che tendenzialmente Non è che siano Proprio Molto veloci Le metterò Qua Un po' Anche a difesa Diciamo Delle unità Da tiro Delle unità Sì Più pesanti Però voi Con le lance Vi preferirei Da quest'altro lato Aspettate un attimo No Ho sbagliato Voi No Facciamo così Che facciamo prima Va Ok Vi metto Qui così Tu Preferisco che stia In questa posizione Qua Ok E Le uniamo insieme Allora Il nostro generale Che comunque è un'unità A cavallo Che quindi si può spostare Anche abbastanza Velocemente I cani Anche I cani Li teniamo un pochino Più indietro qua Non è che siano Le nostre unità Da tiro Che avranno possibilità Di lanciare Di lanciare Allora Io voglio sperare Ma voglio veramente Sperarlo No Io però Con queste unità Qua davanti Non mi piace Allora Quest'unità Qua davanti Non mi piace Per il fatto Che ho paura Che queste mie macchine Da sedio Possano colpire Anche Le mie unità Di fanteria Per cui Inizialmente Le terrò Qua dietro Inizialmente Le terrò Lì dietro In modo tale Che se per caso Loro dovessero Venire di qua Potrò Potrò Avanzare Eventualmente Allora Queste Che sono le mie Unità Di tiro Da tiro La cavalleria Eccetera Che tendenzialmente Sono un pochino Più veloci Io adesso Non so Quanto veloci Saranno gli elefanti Ragazzi Sono quelli Che mi spaventano A dire il vero Di più Infatti Con tutte le armi Da sedio Io adesso Andrò A sparare Loro Addosso Sia con i proiettili Standard Qua Proiettili Esplosivi Non so neanche io Onestamente Perché tendenzialmente I proiettili Esplosivi Hanno un bonus Contro la fanteria Ma hanno meno Precisione No no Non mi interessa Non mi interessa Allora Io spero Che vogliano puntare Contro Al mio generale Farò in modo Di tenere Di conseguenza Unità un pochino Più veloci Qui in basso Perché loro Attacchino di qua Mentre queste Siamo anche in un terreno Piuttosto svantaggioso Mentre queste Le teniamo a difesa Delle armi Pesanti Vediamo come va Allora Stanno avanzando Stanno avanzando In realtà C'ho addirittura Dei rinforzi No in realtà Stanno dirigendosi Verso Queste altre unità E la cosa Non mi piace Dai quanto cazzo è Il vostro raggio Si può sapere Eh stanno venendo Proprio di qua Tra l'altro Da parentesi Va bene Allora Facciamo così Qui dovremmo già Riuscire Ad attaccarli Per l'appunto Con queste unità Qua Allora Niente Un elefante L'abbiamo steso Ottimo Allora Bisogna fare così Spostiamoci Velocemente Con le nostre unità Da tiro Fino a qui Cavalleria Da questa parte Generale Vi teniamo qua Vi teniamo qua Oh è viva Ok Stiamo riuscendo a far qualcosa Correte 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 Allora Fermi tutti No Cosa cazzo State facendo questo ci piace questo ci piace tutta la fanteria adesso è il caso di dire a questi di arretrare eventualmente quantomeno di fermarsi e anche questi di fermarsi anzi di arretrare dove cazzo è la mia cavalleria? eccola qua mollate giù e scappate dio bono continua a sbagliare dai attacchiamo coraggio basta attaccare voi per favore vabbè termina battaglia perché abbiamo vinto fortunatamente fortunatamente voglio vedere quanti sono i risultati perché qualcuno dei miei sicuramente è morto ma più che avevo 5 perdite va bene d'accordo ragazzi le armi sono state le armi da sedia sono state essenziali per quanto riguarda gli elefanti pensavo fossero molto più cazzuti difficili da colpire però eventualmente appunto sono enormi sono un bersaglio mobile enorme siamo riusciti a fottarli prima ancora che riuscissero ad arrivare alle nostre linee bene così bene così allora io come sempre ragazzi spero che il gameplay vi sia piaciuto proseguiremo la nostra avanzata contro cartagine nella prossima puntata nel frattanto stiamo anche sistemando il nostro regno con le nostre nuove conquiste come sempre ragazzi se il video vi è piaciuto iscrivetevi per chi non si è ancora iscritto pollicino in su e ricordatevi sempre anche della pagina di facebook come sempre io vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao